Il tanto invocato aiuto dal cielo è arrivato a Kobane, città seriana vicino al confine con la Turchia, dove sabato l'aviazione statunitense ha effettuato i primi ride contro automezzi in movimento dell'ISIL. In questa località in prevalenza kurda, i Peshmerga tentano da una decina di giorni di respingere gli jihadisti sollecitando l'intervento di Washington. Ma nemmeno l'appoggio aereo è bastato al momento per sbloccare l'assedio. Una quarantina di combattenti kurdi sono stati uccisi negli ultimi cinque giorni di scontri. In reazione ai raid aerei della coalizione internazionale, gli jihadisti siriani del fronte al-Nusra, un gruppo considerato vicino ad al-Qaeda, hanno denunciato una guerra contro l'Islam e si dicono pronti a colpire i paesi che vi partecipano con attentati terroristici.